Napoli protagonista con la palla a nuoto, torneo paralimpico e campionati italiani per la quarta volta, la terza alla Scandone. Si guarda al prossimo obiettivo, Napoli capitale europea dello sport, parte naturalmente principale, quella della città metropolitana di Napoli. Sì, è una grande iniziativa, spero che poi continui sempre, sperando che la Scandone possa ospitare questa bella manifestazione. La palla a nuoto e tutti gli sport devono essere fatti a tutti i livelli. Quest'anno ci sono anche le Olimpiadi, quindi credo che questa sia una tappa in avvicinamento anche per Napoli capitale europeo dello sport. Noi siamo aperti a tutte le iniziative che possono fare grande propaganda dello sport, in virtù anche di quello che sarà Napoli come campionata, come città europea dello sport 2026.